Signore e signori, benvenuti al Gran Polità! Io sono anche riuscito a pubblicare finalmente l'articolo sul Giornale, guardi! Com? Accomodati! E a che mese state? Vibraio, il mese corto! A me mi piace un mese che ho trasso! No! 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 Gesù, io non mi riconosco più, io direi le bellezze nascegno. E vieni ancora. Come un ragazzo, una moto, che tocca i duecento quando mi va, ed ho una gang di amici che t'arretta a me. Come un ragazzo per la città, cammino e vado di qua e di là, non ho paura di gente che ce l'han con me. Ma poi, una ragazzina. E voi amare, amare, amare di questi tempi, fate come me, che ho dato l'eterno addio. Che avete fatto voi? Ho dato l'eterno addio. Ecco, mi piorate l'uterno addio, mi piorate l'acquaterno a me. Acquaterno, acquaterno, ho dato un eterno addio. Ho detto addio all'amore, non ci penso più. Vorrei per un momento baciarvi la manina, per voi è un gran tormento, per me è una rovina. Baciatela non tanto, perché sono pericolosa. Si dice che la donna fa smuovere qualcosa. Baciatela non tanto, perché sono pericolosa. Baciatela non tanto, perché sono pericolosa. Baciatela non tanto, perché sono pericolosa.